La rete del lavoro si rafforza. Questa mattina in comune sono state presentate le nuove fasi di tutto il progetto inserito all'interno di Mare, finanziato dal programma Italia-Francia Marittimo. Sono previsti seminari sulle professioni della Blue Economy rivolti ai ragazzi degli istituti secondari di secondo grado, nonché degli appuntamenti realizzati nell'ambito dell'iniziativa regionale Orientamenti REACT. È un'opportunità che viene data a sei istituti, che ha coinvolto tantissimi studenti e che in questo modo intanto apprendono come si fa a fare impresa oggi e come è il cambiamento. Ad esempio si è parlato di start-up, si parlano di forme di impresa nuove rispetto al passato e poi in base ai propri talenti, in base ai propri capacità, ogni ragazzo, ogni ragazza sarà in grado di poter decidere se fare un percorso oppure un altro. Si parte con il percorso formativo fare impresa junior proseguendo con la presentazione dei prodotti realizzati nell'ambito del progetto, catalogo dei servizi della rete per il lavoro, video sulle professioni della Blue Economy, nuovo portale di infolavoro, fino al Recruiting Day e al convegno dedicato al settore della nautica previsto a fine marzo. Chiaramente non pensiamo che ci siano 500 potenziali imprenditori ma pensiamo di poter intercettare quelli che tra di loro hanno già questa magari qualche idea o qualche pensiero rispetto a un percorso professionale diverso e che questi strumenti li possano aiutare a trovare la loro strada. Oltre al calendario degli eventi è stato presentato anche il concorso di idee che si terrà alla fine del percorso formativo fare impresa junior, organizzato in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e con il supporto tecnico di YLab Tiguglio Digital. Un vero contest di idee, quindi una gara, noi supporteremo i ragazzi che vorranno proporci la loro idea e poi alla fine questa idea verrà presentata. Il progetto vincitore potrà beneficiare, il progetto ma anche i ragazzi che comporanno il team, quindi ci aspettiamo un team di due o tre persone, potranno beneficiare di stage curriculari nell'azienda del territorio.